Benvenuti nel mondo degli orologi Tendence. Tendence è un marchio di orologi di lusso fondato nel 2007. Il marchio si distingue per i suoi orologi di grande formato con design moderni e colorati. Tendence utilizza materiali di alta qualità come acciaio inossidabile, pelle di coccodrillo e diamanti per creare orologi di lusso dal carattere unico. La collezione di orologi Tendence è caratterizzata da design audaci e innovativi, con modelli che spaziano dai classici orologi da polso a quelli da immersione e da pilota. Gli orologi Tendence sono apprezzati dagli appassionati di orologi di lusso in tutto il mondo per la loro qualità, innovazione e design unico. Il marchio Tendence è relativamente giovane nell'industria dell'orologeria di lusso, tuttavia, ha già guadagnato una posizione di rilievo grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati nella produzione dei suoi orologi. La filosofia di Tendence è basata sull'innovazione, sulla qualità e sul design unico. Il marchio mira a creare orologi di lusso che si distinguono per la loro originalità e per la loro capacità di esprimere la personalità del loro proprietario. Tendence utilizza solo i migliori materiali per la produzione dei suoi orologi. L'acciaio inossidabile, la pelle di coccodrillo e i diamanti sono solo alcuni degli elementi utilizzati per creare modelli di orologi unici e di alta qualità. Il design dei modelli Tendence è caratterizzato da linee pulite ed essenziali, con un'attenzione particolare ai dettagli. Gli orologi sono disponibili in una vasta gamma di colori e stili, che vanno dai classici orologi da polso a quelli da immersione e da pilota. Gli orologi da polso Tendence sono disponibili in una vasta gamma di colori e stili. Le collezioni più popolari includono la collezione Gulliver e Rainbow. Gli orologi da immersione Tendence sono progettati per resistere alle pressioni dell'acqua e sono disponibili in una varietà di stili e colori. Gli orologi da pilota Tendence sono caratterizzati da un design unico e da funzionalità avanzate.